se un livello ovviamente non mi interessa lo andiamo a disattivare plane ed per questa tipologia di esercizio vi vado a caricare una surface che probabilmente io ho scaricato rock forest che è simpatico perché mi fa vedere come funziona bene il livello delle in pratica ad liquid layer ad liquid layer introduce un liquido in questo caso abbiamo questi due e quelli sotto non funzionano ed è questo liquido cosa mi dice albedo che è la colorazione di questo liquido ve ne accorgete molto più liquido quando cominciate a orbitare nella scena e qui si apprezza molto bene come abbiamo una parte di riflessione e una parte di trasparenza del nostro liquido il nostro liquido ha una superficie un surface per cui posso aumentare o diminuire l'altezza del liquido ovvio che se vado giù a un certo punto come dire non lo vedo più ha un radius anche questi ed un dettaglio che può andare a sfocare diciamo il colpo di luce e poi ha una torbidità perché può essere un liquido più torbido o meno torbido questa è una cosa molto interessante perché osservate come se io non ho liquido torbido lo vado a vedere meglio chiaro è che se io sono in una situazione in cui in una foresta uno stagno va benissimo questa tipologia di colorazione se sono su un'altra situazione invece che potrebbe essere una situazione con una colorazione invece più tendente al blu attenzione non fate cose troppo come dire sature poi ricordatevi sempre che ctrl z ctrl z ctrl z si può tornare ovviamente indietro ok e dicevo abbiamo l'area torbida la profondità io posso vedere in profondità su questa su questa tipologia di liquido quindi posso vedere cosa c'è sotto e qui abbiamo moist che è in pratica l'umidità anche questo è molto interessante che vediamo qua questa tipologia di umidità che può salire o scendere anche qui c'è un raggio per aumentare il mio effetto lo posso sfocare ecco il trishold può essere utilizzato molto anche su elementi che rappresentano il ghiaccio perché ad esempio in Unreal ci sono delle simulazioni in cui il ghiaccio cambia in relazione alla possibilità del livello dell'acqua che sale quindi l'acqua penetra all'interno del ghiaccio di umidità ed con questi controlli si possono gestire molto molto bene darken per farlo più o meno scuro quindi come vedete abbiamo anche questo effetto di liquido che è molto molto interessante come tipologia di livello anche qui essendo un livello può essere chiuso non si possono mettere maschere su queste tipologie di livello la cosa che invece si può fare ad esempio add mask su questa tipologia di elementi e da add mask paint mask su questa tipologia appunto di livelli che sono i livelli che abbiamo visto precedentemente come anche su questo add mask quindi sul liquido voi la maschera non la potete mettere grazie grazie grazie